Capitolo II dei Malavoglia di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Registrazione di Lisa Caputo I Malavoglia di Giovanni Verga Capitolo II Per tutto il paese non si parlava d'altro che del negozio dei lupini, e come la longa se ne tornava a casa con la lia in collo, le comari si affacciavano sull'uscio per vederla passare. — Un affar d'oro! — vociava a piedi papera, arrancando con la gamba storta dietro a padron Toni, il quale era andato a sedersi sugli scalini della chiesa, accanto a padron Fortunato Cipolla, e al fratello di Menico della Locca, che stavano a prendere il fresco. Lo zio crocifisso strillava come se gli strappassero le penne mastre, ma non bisogna badarci, perché delle penne ne ha molte il vecchio. — Eh, se è lavorato, potete dirlo anche voi, padron Toni. Ma per padron Toni, ei si sarebbe buttato dall'alto del fariglione, come veri Dio, e a lui lo zio crocifisso gli dava retta, perché egli era il mestolo della pentola, una pentola grossa, in cui bollivano più di duecento onze all'anno. Campana di legno non sapeva soffiarsi il naso senza di lui. Il figlio della Locca, udendo parlare delle ricchezze dello zio crocifisso, il quale a lui gli era zio davvero, perché era fratello della Locca, si sentiva gonfiare in petto una gran tenerezza per il parentato. — Noi siamo parenti, ripeteva. Quando vado aggiornata da lui, mi dà mezza paga, è senza vino, perché siamo parenti. Piedipapera sghignazzava. — Lo fa per tuo bene, per non farti ubriacare e per lasciarti più ricco quando creperà. Compare Piedipapera, si divertiva a sparlare di questo e di quello, come capitava, ma così di cuore e senza malizia, che non c'era verso di pigliarsela in criminale. — Massaro Filippo è passato due volte dinanzi all'osteria, diceva pure, e aspetta che la santuzza gli faccia segno di andarla a raggiungere nella stalla, per dirsi insieme il santo rosario. — Oppure, al figlio della Locca, tuo zio crocifisso cerca di rubarle la chiusa a tua cugina la Vespa, vuol pagargliela la metà di quel che vale, col darle ad intendere che la sposerà. Ma se la Vespa riesce a farsi rubare qualche cos'altra, potrai pulirti la bocca della speranza dell'eredità, e ci perdi i soldi e il vino che non ti ha dato. Allora si misero a questionare, perché padron Tony sosteneva che lo zio crocifisso, alla fin fine, era cristiano, e non aveva dato ai cani il suo giudizio per andare a sposare la figliola di suo fratello. — Come? Che c'entra il cristiano e il turco? ribatteva Piedipapera. — È un pazzo, volete dire. Lui è ricco come un maiale, mentre la Vespa non possiede altro che quella chiusa grande quanto un fazzoletto da naso. — Lo dite a me, che ci ho al limite la vigna, disse allora padron Cipolla, confiandosi come un tacchino. — Li chiamate vigna, quei quattro fichi d'India? rispose Piedipapera. — In mezzo ai fichi d'India ci sono le viti, e se San Francesco ci manderà una buona pioggia, lo vedrete poi che mosto darà. Il sole oggi si coricò insaccato, acqua o vento. — Quando il sole si corica insaccato, si aspetta il vento di ponente, aggiunse padron Tony. Piedipapera non poteva soffrire quello sputasentenza di padron Cipolla, il quale, perché era ricco, si credeva di saper tutto lui, e di dare a bere le corbellerie a chi non aveva denari. — Chi la vuol cotta e chi la vuol cruda, conchiuse. — Padron Cipolla aspetta l'acqua per la sua vigna, e in voi il ponente in poppa alla provvidenza. Lo sapete, il proverbio, mare crespo, vento fresco. Stasera le stelle sono lucenti, e a mezzanotte cambierà il vento. Sentite la buffata. Sulla strada si udivano passare lentamente dei carri. — Notte e giorno c'è sempre gente che va attorno per il mondo, osservò poi compare Cipolla. E adesso, che non si vedeva più né mare né campagna, sembrava che non ci fosse al mondo altro che trezza, e ognuno pensava dove potevano andare coi carri a quell'ora. — Prima di mezzanotte la provvidenza avrà girato il capo dei mulini, disse padron Tony, e il vento fresco non le darà più noia. Padron Tony non pensava ad altro che alla provvidenza, e quando non parlava delle cose sue, non diceva nulla, e alla conversazione ci stava come un manico di scopa. — Voi dovreste andare a mettervi con quelli della spezieria, che discorrono del re e del papa, gli diceva perciò Piedipapera. — Colà ci fareste bella figura anche voi, li sentite come gridano. — Questo è don Gianmaria, disse il figlio della locca, che litiga con lo speziale. Lo speziale teneva conversazione sull'uscio della bottega, al fresco, col vicario e qualche d'un altro. Come sapeva di lettere, leggeva la gazzetta, e la faceva leggere agli altri, e ci aveva anche la storia della rivoluzione francese, che se la teneva là, a portata di mano, sotto il mortaio di cristallo. Perciò questionavano tutto il giorno con don Gianmaria, il vicario, per passare il tempo, e ci pigliavano delle malattie dall'abile, ma non avrebbero potuto stare un giorno senza vedersi. Il sabato, poi, quando arrivava il giornale, don Franco spingevasi sino ad accendere mezz'ora, ed anche un'ora di candela, a rischio di farsi sgridare dalla moglie, onde spiattellare le sue idee, e non andare a letto a mode bruti, come compare Cipolla o compare Malavoglia. L'estate, poi, non c'era neppur bisogno della candela, già che si poteva star sull'uscio, sotto il lampione, quando Mastro Cirino l'accendeva, e qualche volta veniva don Michele, il brigadiere delle guardie doganali. E anche don Silvestro, il segretario comunale, tornando dalla vigna, si fermava un momento. Allora, don Franco diceva, fregandosi le mani, che pareva un piccolo parlamento, e andava a piantarsi dietro il banco, pettinandosi con le dita la barbona, con certo sorriso furbo, che pareva si volesse mangiare qualcuno a colazione. E alle volte si lasciava scappare sottovoce delle mezze parole dinanzi alla gente, rizzandosi sulle gambette, e si vedeva che la sapeva più lunga degli altri, tanto che don Gianmaria non poteva patirlo, e ci si mangiava il fegato, e gli sputava in faccia parole latine. Don Silvestro, lui, si divertiva a vedere come si guastavano il sangue per raddrizzare le gambe ai cani, senza guadagnarci un centesimo. Egli, almeno, non era arrabbiato come loro, e per questo, dicevano in paese, possedeva le più belle chiuse di trezza, dove era venuto senza scarpe e piedi, aggiungeva Piedipapera. Egli aiziava l'un contro l'altro, e rideva a crepapancia, con degli ah ah ah, che sembrava una gallina. — Ecco don Silvestro che fa l'uovo, osservò il figlio della locca. — Don Silvestro, fa le uova d'oro, laggiù al municipio, rispose Piedipapera. — Hm, sputò fuori padron fortunato, pezzenterie, comare Zuppidda non gli ha voluto dare la figliuola. — Vuol dire che mastro Turizuppiddu preferisce le uova delle sue galline, rispose padron Tony. E padron Cipolla disse di sì col capo. — Ntroi, ntroi, ciascuno coi pari suoi, aggiunse padron Malavoglia. Piedipapera, allora, ribatté che se don Silvestro si fosse contentato di stare coi suoi pari, a quest'ora ci avrebbe la zappa in mano invece della penna. — Che ce la dareste voi, vostra nipote Mena? disse al fin padron Cipolla, volgendosi a padron Tony. — Ognuno all'arte sua, e il lupo alle pecore. Padron Cipolla continuava a dir di sì col capo, tanto più che fra lui e padron Tony c'era stata qualche parola di maritarla Mena con suo figlio Brasi, e se il negozio dei lupini andava bene, la Mena avrebbe avuto la sua dote in contante, e l'affare si sarebbe conchiuso presto. — La ragazza com'è educata, e la stoppa com'è filata, disse infine padron Malavoglia, e padron Cipolla confermò che tutti lo sapevano in paese, che la longa aveva saputo educarla la figliuola, e ognuno che passava per la stradicciuola a quell'ora, udendo il colpettare del telaio di Sant'Agata, diceva che l'olio della candela non lo perdeva come a Remaruzza. La longa, come era tornata a casa, aveva acceso il lume, e s'era messa con l'arcolaio sul ballatoio, a riempire certi cannelli che le servivano per l'ordito della settimana. — Com'è Remena, non si vede, ma si sente, e sta al telaio notte e giorno, come Sant'Agata, dicevano le vicine. — Le ragazze devono avvezzarsi a quel modo, rispondeva Maruzza, invece di stare alla finestra. A donna alla finestra non far festa. — Certune, però, con lo stare alla finestra, un marito se lo pescano, fra tanti che passano, osservò la cugina Anna dall'uscio di rimpetto. La cugina Anna aveva ragione da vendere, perché quel bietolone di suo figlio Rocco si era lasciato irretire dentro le gonnelle della mangiacarrubbe, una di quelle che stanno alla finestra con la faccia tosta. Comare, grazie ai piedipapera, sentendo che nella strada c'era conversazione, si affacciò anch'essa sull'uscio, col grembiule gonfio delle fave che stava sgusciando, e se la pigliava coi topi che le avevano buccherellato il sacco come un colabrodo, e pareva che l'avessero fatta apposta, come se ci avessero il giudizio dei cristiani. Così il discorso si fece generale, perché alla Maruzza gliene avevano fatto tanto del danno quelle bestie scomunicate. La cugina Anna ne aveva la casa piena da che gli era morto il gatto, una bestia che valeva tant'oro, ed era morto di una pedata di comparetino. I gatti grigi sono i migliori per acchiappare i topi, e andrebbero a scovarli in una cruna di ago. Ai gatti non conveniva aprire l'uscio di notte, perché una vecchia diaci Sant'Antonio l'avevano ammazzata così, che i ladri le avevano rubato il gatto tre giorni avanti, e poi glielo avevano riportato mezzo morto di fame a miagolare dietro l'uscio. E la povera donna, non sentendosi il cuore di lasciare la bestiola sulla strada a quell'ora, aveva aperto l'uscio, e così si era ficcati i ladri in casa. Al giorno d'oggi i marioli ne inventano di ogni specie per fare i loro tiri, e a trezza si vedevano delle facce che non si erano mai viste sugli scogli, col pretesto di andare a pescare, e raffavano la biancheria messa ad asciugare, se capitava. Alla povera nunziata gli avevano rubato in quel modo un lenzuolo nuovo. Povera ragazza, rubare a lei che lavorava per dar pane a tutti quei fratellini che suo padre le aveva lasciato sulle spalle, quando l'aveva piantata per andare a cercare fortuna ad Alessandria d'Egitto. Nunziata era come la cugina Anna, quando le era morto il marito e le aveva lasciato quella nidiata di figliuoli, che Rocco, il più grandicello, non le arrivava alle ginocchia. Poi alla cugina Anna le era toccato di tirar su quel fannullone per vederselo rubare dalla mangiacarrubbe. In mezzo a quel chiacchierio saltò su la zuppidda, la moglie di Mastro Turi il calafato, la quale stava in fondo alla straduccia e compariva sempre all'improvviso, per dire la sua come il diavolo nella litania, che nessuno si accorgeva di dove fosse sbucata. Del resto, venne a brontolare, vostro figlio Rocco non vi ha aiutata neppur lui, che se si è buscato un soldo è andato subito a berlo all'osteria. La zuppidda sapeva tutto quello che succedeva in paese, e per questo raccontavano che andava tutto il giorno in giro a piedi scalzi, a far la spia, col pretesto del suo fuso, che lo teneva sempre in aria perché non frullasse sui sassi. Ella diceva sempre la verità come il santo evangelio, questo era il suo vizio, e perciò la gente che non amava sentirsela cantare l'accusava di essere una lingua d'inferno, di quelle che lasciano la bava. Bocca amara, sputa fiele, ed ella ci aveva la bocca amara davvero, per quella sua Barbara, che non aveva potuto maritare, tanto era superbe e sgarbata, e con tutto ciò voleva dargli il figlio di Vittorio Emanuele. Bel pezzo, la mangia carrube, seguitava, una sfacciata che si è fatto passare tutto il paese sotto la finestra. A donna alla finestra non far festa, e Vanni Pizzuto le portava in regalo i fichitindi arrubati a Massaro Filippo Lortolano, e se li mangiavano insieme nella vigna sotto il mandorlo, li aveva visti lei. E Peppinaso, il beccaio, dopo che gli spuntò la gelosia di compare Mariano Cinghialente, il carrettiere, andava a buttarle dietro l'uscio tutte le corna delle bestie che macellava, sicché dicevano che andava a pettinarsi sotto la finestra della mangia carrube. Quel cuor contento della cugina Anna, invece, la prendeva allegra. Don Gianmaria dice che fate peccato mortale a sparlare del prossimo. Don Gianmaria dovrebbe piuttosto farla predica a sua sorella donna Rosolina, rispose la Zuppid, e non lasciarle farla, ragazzetta con Don Silvestro, quando passa, e con Don Michele il brigadiere, che ci ha la rabbia del marito, con tutti quegli anni e quella carne che ci ha addosso, la poveraccia. Alla volontà di Dio, concluse la cugina Anna. Quando è morto mio marito, Rocco non era più alto di questa conocchia, e le sue sorelline erano tutte minori di lui. Forse che mi son perduta d'animo per questo. Ai guai, ci si fa il callo, e poi ci aiutano a lavorare. Le mie figliuole faranno come ho fatto io, e finché ci saranno le pietre al lavatoio, avremo di che vivere. Guardate l'Annunziata, ora è la più giudizio di una vecchietta, e si aiuta a tirar su quei piccini che pare li abbia fatti lei. — E dov'è l'Annunziata, che non si vede ancora? domandò la longa a un mucchio di monelli cenciosi, messi a piagnucolare sulla soglia della casuccia lì di faccia, i quali, al sentir parlare della sorella, alzarono gli strilli in coro. L'ho vista che andava sull'Asciara a fare due fasci di ginestre, e c'era pure vostro figlio Alessi che l'accompagnava, rispose la cugina Anna. I bambini stettero a sentire, e poi si rimisero a pigolare tutti in una volta, e il più grandicello, appollaiato su di un gran sasso, rispose dopo un pezzetto. — Non lo so dove. Le vicine avevano fatto come le lumache quando piove, e lungo la straduccia non si udiva che un continuo chiacchierio da un uscio all'altro. Persino la finestra di compare Alfio Mosca, quello del carro dell'asino, era aperta, e ne usciva un gran fumo di ginestre. La mena aveva lasciato il telaio, e s'era affacciata al ballatoio anch'essa. — Oh, Sant'Agata! esclamarono le vicine, e tutte le facevano festa. — Che, non ci pensate a maritar la vostra mena? chiedeva sottovoce la zuppidda a comare Maruzza. — Oramai deve compire diciotto anni a Pasqua, lo so perché è nata l'anno del terremoto, come mia figlia Barbara. — Chi vuol pigliarsi mia figlia Barbara? Prima deve piacere a me. In questo momento si udì un fruscio di frasche per la via, e arrivarono Alessi e l'Annunziata, che non si vedevano sotto i fasci di ginestre, tanto erano piccini. — Oh, l'Annunziata! esclamarono le vicine. — Che, non avevi paura a quest'ora nel lasciara? — C'ero anch'io, rispose Alessi. Ho fatto tardi con comare Anna al lavatoio, e poi non ci avevo legna per il focolare. La ragazzina accese il lume, e si mise lesta a lesta ad apparecchiare ogni cosa per la cena, mentre i suoi fratellini le andavano dietro per la stanzuccia, che pareva una chioccia coi suoi pulcini. Alessi si era scaricato del suo fascio, e stava a guardare dall'uscio, serio serio, e con le mani nelle tasche. — Oh, Annunziata! le gridò Mena dal ballatoio. — Quando avrai messo la pentola a bollire, vieni un po' qua! Annunziata lasciò Alessi a custodire il focolare, e corsa ad appollaiarsi sul ballatoio, accanto alla Sant'Agata, per godersi il suo riposo anche lei, con le mani in mano. — Compara Alfio Mosca, sta facendo cuocere le fave, osservò l'Annunziata dopo un po'. — Egli è come te, poveraccio, che non avete nessuno in casa che vi faccia trovare la minestra alla sera, quando tornate stanchi. — Sì, è vero, e sa pure cucire, e si fa il bucato da sé, e si rattoppa le camice. L'Annunziata sapeva ogni cosa che faceva il vicino Alfio, e conosceva la sua casa come la pianta della mano. — Adesso, diceva, va a prendere la legna. Ora sta governando il suo asino, e si vedeva il lume nel cortile, e sotto la tettoia. Sant'Agata rideva, e l'Annunziata diceva che per essere preciso come una donna, a comprare Alfio gli mancava soltanto la gonnella. — Così, conchiudeva Mena, quando si mariterà, sua moglie andrà attorno col carro dell'asino, e lui resterà in casa ad allevare i figlioli. Le mamme, in crocchio nella strada, discorrevano anche esse di Alfio Mosca, che fino alla Vespa giurava di non averlo voluto per marito, diceva la Zuppida, perché la Vespa aveva la sua brava chiusa, e se voleva maritarsi non prendeva uno il quale non possedeva altro che un carro d'asino. Carro cataletto, dice il proverbio. Ella ha gettato gli occhi su di suo zio campana di legno, la forbaccia. Le ragazze, fra di loro, prendevano le parti di Mosca, contro quella brutta Vespaccia, e l'annunziata, poi, si sentiva il cuore gonfio dal disprezzo che gettavano su di compare Alfio, per il solo motivo che era povero, e non aveva nessuno al mondo, e tutta un tratto, disse a Mena, se fossi grande, io me lo piglierei, se me lo dessero. La Mena stava per dire anche lei qualche cosa, ma cambiò subito discorso. Che ci vai tu alla città per la festa dei morti? No, non ci vado, perché non posso lasciarla a casa sola. Noi ci andremo se il negozio dei lupini va bene, l'ha detto il nonno. Poi ci pensò su, e soggiunse. Con Paralfio ci suole andare anche lui a vendere le sue noci. E tacquera entrambe, pensando alla festa dei morti, dove con Paralfio andava a vendere le sue noci. Lo zio crocifisso, con quell'aria di Peppinino, se la mette in tasca la vespa, ripigliava la cugina Anna. Questo vorrebbe lei, rispose di botto la zuppida. La vespa non vorrebbe altro che se la mettesse in tasca. Ella gli è sempre per casa, come il gatto, col pretesto di portargli i buoni bocconi, e il vecchio non dice di no, tanto più che non gli costa nulla. Ella lo ingrassa come un maiale quando gli si vuol fare la festa. Ve lo dico io, la vespa vuole entrargli in tasca. Ognuna diceva la sua dello zio crocifisso, il quale piagnucolava sempre, e si lamentava come Cristo in mezzo ai ladroni, e intanto aveva denari appalate, che la zuppida, un giorno che il vecchio era malato, aveva visto una cassa grande così sotto il letto. La longa si sentiva sullo stomaco il debito delle quarantonse dei lupini, e cambiò discorso, perché le orecchie ci sentono anche al buio, e lo zio crocifisso si udiva di scorrere con don Gianmaria mentre passavano per la piazza, lì vicino, tanto che la zuppida interruppe i vituperi che stava dicendo di lui per salutarlo. Don Silvestro rideva come una gallina, e quel modo di ridere faceva montare la mosca al naso allo speziale, il quale, peraltro, di pazienza, non ne aveva mai avuta, e la lasciava agli asini e a quelli che non volevano fare la rivoluzione un'altra volta. «Già, voi non ne avete mai avuta, perché non sapreste dove metterla», gli gridava don Gianmaria. e don Franco, che era piccino, ci si arrabbiava e accompagnava il prete con parolacce che si sentivano da un capo all'altro della piazza, all'oscuro. Campana di legno, duro come un sasso, si stringeva nelle spalle e badava a ripetere che a lui non gliene importava e attendeva i fatti suoi. «Come se non fossero fatti vostri quelli della confraternita della buona morte, che nessuno paga più un soldo», gli diceva don Gianmaria. «La gente, quando si tratta di cavare i denari di tasca, diventa una manica di protestanti, peggio dello speziale, e vi lascia tenere la cassa della confraternita per farvi ballare i sorci, che è una vera porcheria». Don Franco, dalla sua bottega, sghignazzava alle loro spalle a voce alta, cercando di imitare la risalta di don Silvestro, che faceva andare in bestia la gente. Ma lo speziale era della setta, e si sapeva, e don Gianmaria gli gridava dalla piazza «I denari li trovereste se si trattasse di scuole di lampioni?» Lo speziale stette zitto, perché si era affacciata sua moglie alla finestra, e lo zio crocifisso, quando fu abbastanza lontano da non temere che lui disse don Silvestro il segretario, il quale si beccava anche quel po' di stipendio di mestro elementare, «A me non me ne importa», ripeteva, «ma ai miei tempi non c'erano tanti lampioni, né tante scuole, non si faceva a bere l'asino per forza», e si stava meglio. «A scuola non ci siete stato voi, eppure i vostri affari ve li sapete fare». «E il mio catechismo lo so», aggiunse lo zio crocifisso, per non restare in debito. Nel calore della disputa, don Gianmaria aveva perso il battuto, sul quale avrebbe attraversato la piazza anche ad occhi chiusi, e stava per rompersi il collo e lasciar scappare, Dio perdoni, una parola grossa. «Almeno l'accendessero i loro lumi!» «Al giorno d'oggi bisogna badare i fatti propri», conchiuse lo zio crocifisso. Don Gianmaria andava tirandolo per la manica del giubbone per dire corna di questo e di quell'altro in mezzo alla piazza all'oscuro, del lumaio che rubava l'olio, di Don Silvestro che chiudeva un occhio e del sindaco Giufà che si lasciava menare per il naso. Mastro Cirino, ora che era impiegato del comune, faceva il sagrestano come Giuda, che suonava l'Angelus quando non aveva nulla da fare e il vino per la messa lo comperava di quello che aveva bevuto sulla croce Gesù crocifisso che era un vero sacrilegio. Campana di legno diceva sempre di sì col capo per abitudine sebbene non si vedessero in faccia e Don Gianmaria come li passava a rassegna ad uno ad uno diceva «Costui è un ladro, quello è un birbante, quell'altro è un giacobino. Lo sentite Pietipapera che sta discorrendo con padron Malavoglia e padron Cipolla? Un altro della setta colui, un arruffapopolo con quella gamba storta e quando lo vedeva arrancare per la piazza faceva il giro lungo e lo seguiva con occhi sospettosi per scovare cosa stesse macchinando con quell'andatura. Quello là ha il piede del diavolo borbottava. Lo zio crocifisso si stringeva nelle spalle e tornava a ripetere che egli era un galantuomo e non voleva entrarci. Padron Cipolla un altro sciocco un pallone di vento colui che si lasciava abbindolare da piedi papera ed anche padron Tony ci sarebbe cascato anche lui bisogna aspettarsi tutto al giorno d'oggi. Chi è galantuomo bada i fatti suoi ripeteva lo zio crocifisso. Invece compare Tino seduto come un presidente sugli scalini della chiesa sputava sentenze sentite a me prima della rivoluzione era tutto un'altra cosa adesso i pesci sono maliziati ve lo dico io no le acciughe sentono il grecale ventiquattro ore prima di arrivare riprendeva padron Tony è sempre stato così l'acciuga è un pesce che ha più giudizio del tonno ora di là del capo dei mulini li scopano dal mare tutti in una volta con le reti fitte ve lo dico io cos'è ripigliò compare Fortunato sono quei maledetti vapori che vanno e vengono e battono l'acqua con le loro ruote cosa volete i pesci si spaventano e non si fanno più vedere ecco cos'è il figlio della locca stava ad ascoltare a bocca aperta e si grattava il capo bravo disse poi così i pesci non se ne troverebbero più nemmeno a Siracusa né a Messina dove vanno i vapori invece li portano di là a quintali con la ferrovia insomma sbrigatevela voi esclamò allora padron cipolla indispettito io me ne lavo le mani e non me ne importa un fico giacché ci ho le mie chiuse e le mie vigne che mi danno il pane e piedipapera assestò uno scapaccione al figlio della locca per insegnargli l'educazione bestia quando parlano i più vecchi di te sta zitto il ragazzaccio allora se ne andò strillando e dandosi dei pugni nella testa che tutti lo pigliavano per minchione perché era figlio della locca e padron toni col naso in aria osservò se il maestrale non si mette prima della mezzanotte la provvidenza avrà tempo di girare il capo dall'alto del campanile caddero lenti lenti dei rintocchi sonori un'ora di notte osservò padron cipolla padron toni si fece la croce e rispose pace ai vivi e riposo ai morti don giammaria fanno anche la spia ai servi di dio per contare loro i bocconi tutto in odio alla chiesa e incontrandosi naso a naso con don michele il brigadiere delle guardie doganali il quale andava attorno con la pistola sullo stomaco e i calzoni dentro gli stivali in cerca di contrabbandieri a questi altri non glielo fanno il conto di quello che mangiano questi qui mi piacciono rispondeva campana di legno questi qui che stanno a guardia della roba dei galantuomini mi piacciono se gli dessero l'imbeccata sarebbe della setta anche lui diceva fra sé don giammaria picchiando all'uscio di casa tutti una manica di ladri e continuò a borbottare col picchiatoio in mano seguendo con occhio sospettosi passi del brigadiere che si dileguavano nel buio verso l'osteria e rimuginando perché andasse a guardargli dalla parte dell'osteria gli interessi dei galantuomini colui però comparetino lo sapeva perché don michele andasse a guardare gli interessi dei galantuomini dalla parte dell'osteria che ci aveva perso delle notti a stare in agguato dietro l'olmo lì vicino per scoprirlo e soleva dire ci va per confabulare di nascosto con lo zio santoro il padre della santuzza quelli che mangiano il pane del re devono tutti fargli sbirri e sapere i fatti di ognuno attrezza e dappertutto e lo zio santoro così cieco com'è che sembra un pipistrello al sole sulla porta dell'osteria sa tutto quello che succede in paese e potrebbe chiamarci per nome ad un ad uno soltanto a sentirci camminare e non ci sente solo quando massaro filippo va a recitare il rosario con la santuzza ed è un tesoro per fare la guardia meglio di come se gli avessero messo un fazzoletto sugli occhi ma ruzza udendo suonare un'ora di notte era rientrata in casa lesta lesta per stendere la tovaglia sul deschetto le comari a poco a poco si erano tiradate e come il paese stesso andava addormentandosi si udive il mare che russava lì vicino in fondo alla straduccia e ogni tanto sbuffava come uno che si volti e rivolti per il letto soltanto laggiù all'osteria dove si vedeva il lumicino rosso continuava il baccano e si udiva il vociare di Rocco Spatu il quale faceva festa tutti i giorni compare Rocco ha il cuore contento disse dopo un pezzetto dalla sua finestra Alfio Mosca che pareva non ci fosse più nessuno oh siete ancora là compare Alfio rispose Mena la quale era rimasta sul ballatoio ad aspettare il nonno sì sono qua comare Mena sto qua a mangiarmi la minestra perché quando vi vedo tutti a tavola con lume mi pare di non essere tanto solo che va via anche l'appetito non ce l'avete il cuore contento voi eh ci vogliono tante cose per avere il cuore contento Mena non rispose nulla e dopo un altro po' di silenzio compare Alfio soggiunse domani vado alla città per un carico di sale che ci andate poi per i morti domandò Mena Dio lo sa quest'anno quelle quattro noci sono tutte fradice compare Alfio ci va per cercarsi la moglie alla città rispose l'annunziata dall'uscio di rimpetto che è vero domandò Mena eh comare Mena se non dovessi far altro al mio paese ce n'è delle ragazze come dico io senza andare a cercarle lontano guardate quante stelle che ammiccano lassù rispose Mena dopo un pezzetto e i dicono che sono le anime del purgatorio che se ne vanno in paradiso sentite le disse Alfio dopo che ebbe guardate le stelle anche lui voi che siete Sant'Agata se vi sognate un terno buono ditelo a me che ci giocherò la camicia e allora potrò pensarci a prender moglie buonasera rispose Mena le stelle ammiccavano più forte quasi s'accendessero e i tre re scintillavano sui fariglioni con le braccia in croce come Sant'Andrea il mare russava in fondo alla stradicciuola ad agio ad agio e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava nel buio sobbalzando sui sassi e andava per il mondo il quale è tanto grande che se uno potesse camminare e camminare sempre giorno e notte non arriverebbe mai e c'era pure della gente che andava per il mondo a quell'ora e non sapeva nulla di Comparalfio né della Provvidenza che era in mare né della Festa dei Morti così pensava Mena sul ballatoio aspettando il nonno il nonno si affacciò ancora due o tre volte sul ballatoio prima di chiudere l'uscio a guardare le stelle che luccicavano più del dovere e poi borbottò mare amaro Rocco Spatu si sgolava sulla porta dell'osteria davanti al lumicino chi ha il cuor contento sempre canta con chiuse padrontoni fine del capitolo secondo grazie a tutti grazie a tutti